Museio di Bolzano. Fino al 27 agosto si possono ammirare queste opere realizzate da 15 studenti della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano. Il tema è incentrato sulla regione europea Tirolo Alto Adige Trentino. Come gli studenti vedono l'euregio attraverso un punto di osservazione privilegiato. L'idea della mostra prende le mosse da un'esperienza altrettanto positiva sempre in ambito euregio. In primavera abbiamo ottenuto questi euregio workshops con le varie istituzioni culturali che operano nell'ambito dell'euregio. Lì ci è venuta questa idea di collaborare anche con gli studenti della Facoltà di Design. Sono studenti che provengono da altri paesi non solo dell'Alto Adige Trentino e del Tirolo e abbiamo chiesto a loro la loro visione dell'euregio, come la vedono, quali sono le difficoltà, quali sono le critiche che vedono, quali sono le motivazioni per le quali sono venuti qua a studiare e poi questo è il risultato di questo lavoro. Specificità, differenze, analogie dell'euroregione che vede la collaborazione tra Trentino, Alto Adige e Tirolo. Questo è l'obiettivo posto agli studenti coordinati dal professore della Libera Università di Bolzano, Antonino Benincasa. Dare libero sfogo alla propria creatività è stata la parola d'ordine. È andato molto bene con i ragazzi. Le tecniche che hanno usato in questo progetto è la serigrafia, quindi sono stampe artistiche fatte nel laboratorio della Facoltà di Design e Arti, proprio con le proprie mani degli studenti. Sono molto soddisfatto, quindi lo scopo didattico era di entrare nel merito del tema dell'origine, quindi quali sono le specificità tra il Tirolo, il Sud Tirolo e il Trentino. 15 gli artisti impegnati è quindi impossibile descrivere tutte le opere esposte, opere accumulate dalla tecnica utilizzata ma che si differenziano nelle scelte dei temi e nella motivazione dei vari argomenti. Si spazia dalla geografia alle tradizioni, alle nuove tecnologie. Ho scelto di rappresentare le tre regioni dell'Euroregio in un modo simpatico, rappresentando il mondo dei videogiochi. Ho scelto questo approccio per sfasare un po' il mito della tradizione e della cultura che è sempre presente in queste tre regioni, forse certe volte anche di troppo e volevo trovare un modo alternativo per rappresentare queste tre regioni. Ho scelto il tema del Carnevale perché è qualcosa di differente da quello che in realtà c'è stato richiesto. C'è stato richiesto di rappresentare delle differenze fra le tre regioni e in genere si racconta sempre qualcosa di negativo o i contrasti fra le tre. Io invece ho deciso di raccontare il Carnevale perché è una cosa che le accomuna ed in tutte e tre le regioni non solo è una lunga e antica tradizione, in più è ciò che rappresenta l'avvento della primavera e la fine dell'inverno, quindi il benvenuto ai nuovi raccolti. E quello che mi piaceva appunto è che è un lato positivo di tutte e tre le regioni, se anche viene festeggiato in tre modi diversi. La mostra Euregio-Alandia illustra quindi il ruolo centrale della regione europea Tirolo-Altoadige-Trentino nel contesto della cultura vissuta nel quotidiano. Nel rispetto dello spirito di collaborazione Euregio, l'esposizione delle opere degli studenti della Facoltà di Design e Arti dell'Università di Bolzano, dopo il capoluogo altoatesino farà tappa a Trento e a Innsbruck.